Piena adesione alla manifestazione di domani pomeriggio a Campobasso in favore della sanità pubblica. La ribadita il Movimento 5 Stelle in una conferenza stampa in comune nel capoluogo spiegando le motivazioni e sottolineando come da tempo abbia manifestato contrarietà al piano operativo di frattura. I cittadini e le associazioni hanno già in molti aderito a questa iniziativa. Noi facciamo appello a tutti i nostri elettori affinché scendano in piazza e vengono a manifestare contro un piano sanitario che è contro la sanità pubblica e contro i servizi ai cittadini. Una posizione netta anche riguardo il progetto di integrazione tra Cardarelli e Fondazione Giovanni Paolo II. È un'aberrazione giuridica e riteniamo che in qualche modo innanzitutto non si possa fare per questi motivi e poi anche purtroppo come sembra accade un modo di favorire i privati depaperando il pubblico. Intanto movimenti, associazioni, studenti, cittadini si preparano alla manifestazione di domani una presa di posizione forte e decisa contro il piano del presidente commissario Frattura. Il Forum per la difesa della sanità pubblica, con una breve nota, vuole sapere se il premier Renzi sia stato chiamato a Campobasso, sono le testuali parole, per sancire la scomparsa della sanità pubblica molisana e con essa la fine della regione. Sarebbe, in questo caso, conclude il Forum, un patto scellerato stipulato non in favore ma contro il Molise e tutti i molisani. Anche l'UGL ha annunciato che sarà domani in piazza per difendere, quanto sancito dalla Costituzione, diritto irrinunciabile per la tutela della salute di tutti i cittadini. Pure la CGL ha comunicato che aderisce all'iniziativa e invita a partecipare alla protesta contro un piano confuso e approssimativo e sostiene, redatto senza alcun confronto con le parti sociali e sindacali, una riforma iniqua che aumenterà solo i costi e le disuguaglianze.